Ben trovati dalla redazione di news24.city. Marrakesh, COP22, il piano d'accordo Parigi entro il 2018. A fine conferenza l'appello a Trump si unisca alla lotta di gas Serra. USA, Mike Pompeo, direttore della CIA, Flynn, alla sicurezza nazionale, Trump offre la giustizia a Jeff Sessions. Europa, vertice Berlino, Renzi sottolinea l'unpass dell'Unione sui migranti. Merkel, la Germania, da sola non basta, da Obama l'ultimo saluto ai leader dell'Unione. Grecia, xenofobi attaccano un campo di rifugiati, con Molotov e Petardia Chios, un immigrato siriano ferito. Referendum Renzi, se vince il no, verificheremo la situazione politica. Il nostro compito era anche portare a casa la ripartenza. Milano rissa sotto il grattacielo della regione due feriti. La lite tra due gruppi di filippini, cinque arresti e cinque denunce. Grazie a tutti.